Si aprono le gabbie, partiti cavalli della terza corsa. Dall'interno veloce Lomitas Gold, ma hanno accettato partenza anche Maxi Force, Valbadia, Grand Schand e Bridge Dino, con la seconda schiera formata invece da Miss Cliffs, Old Sweet, con l'esterno zona d'ombra Witch of June, e poi a chiudere il gruppo troviamo Gabri Mason, posizioni che si devono ancora assestare, nessuno che vuole fare l'andatura decisamente in avanti, allora per inerzia ci si ritrova Grand Schand, che conduce a questo punto nei confronti di Maxi Force in seconda, con la Giuba Celeste in terza, troviamo Bridge Dino con all'interno Valbadia, zona d'ombra Lomitas Gold, Miss Cliffs, con Witch of June, Gabri Mason a chiudere il gruppo, mentre tutti questi preceduti anche da Old Sweet non si sta esagerando in avanti, l'andatura è piuttosto lente, allora Maxi Force si è ripreso la leadership, con Grand Schand che lo segue al secondo posto, terza corsia per zona d'ombra, all'interno in quarta c'è Valbadia con Bridge Dino in mezzo a questi, poi il resto del gruppo, Miss Cliffs, Old Sweet, Witch of June e ancora Gabri Mason. Siamo addirittura ad arrivo, il primo strappolo dato proprio Maxi Force, Valbadia che si avvicina minacciosa, Lomitas Gold che deve trovare lo spazio, Grand Schand che ci prova dal centro della pista, ancora più all'esterno c'è Gabri Mason, Old Sweet con Miss Cliffs, c'è un ampio ventaglione, cavallo in diagonale con Lomitas Gold in leggero vantaggio nei confronti, anzi Maxi Force che è in vantaggio nei confronti di Valbadia, Lomitas Gold che ci prova, Gabri Mason che ha trovato un buon barco, poi ancora tutto il resto del gruppo con Lomitas Gold che adesso cerca di ricucire il gap contro Valbadia che è ancora davanti, Valbadia contro Lomitas Gold, Valbadia che mantiene una incollatura di vantaggio, l'impressione dalla nostra prospettiva è questa, aveva frequentato altre categorie Valbadia ma era stata un pochino sottovalutata evidentemente, vince Dario Vargiù che poi è difficile da superare quando è lotta, anche se Carlo Fiocchi ci ha provato in ogni modo, rivediamo la corsa attraverso lo stretto, Valbadia qui è in vantaggio, Lomitas Gold che gli dà l'attacco, vediamo se a fil di palo cambia qualcosa, secondo me no, ma chiaramente bisogna attendere, eh no, Valbadia ancora davanti, vince numero 5 dello schienamento Valbadia che ottiene così la vittoria numero 2 in carriera la figlia di Pound che lascia a secondo Lomitas Gold il market mover della competizione e al terzo Maxi Force che era stato autore del classico stop and go con fuga indirittura e che ha reso difficile il recupero dagli altri, in particolare a Gabriel Mason che era risalito dalla corda numericamente dunque l'ordine d'arrivo è 5, 11 e al terzo il numero 4. Grazie a tutti!